Pensa se Raider in pista E siamo partiti per amici con la categoria G4 E' il numero 139 dall'interno Fidi Ricopassa per l'SB E' preso il comando Alla seconda posta Vediamo per il trentino gara C'è Manuel Bianchi Andiamo a vedere il secondo metterino Attenzione, cambia la seconda posizione Con Lorenzo Ambrosini Per le marmotte e le reti Andiamo con Federico Pasa Lorenzo Ambrosini Con Manuel Bianchi Per la quarta posizione Troviamo il TPMX Libertas Tomas, Ligabot Attenzione all'interno Riviene il numero 578 No, la vittoria per questo primo quarto di finale Di Federico Pasa A una cuspecchina bisnate